Buon salve a tutti, oggi video tag. Video tag perché sono stato taggato da Francesco del canale La Soffitta di Camera Mia per questo comic book tag. Io non faccio video tag da parecchio, forse un paio d'anni, un po' di più forse. E quindi dai, un video così molto semplice in cui si deve rispondere a delle domande, ma dai, facciamolo tanto per rilassamento. Non utilizzerò nessuna tecnica di montaggio particolare, insomma magari metterò qualche immagine dei volumi di cui parlo, tanto per farvi capire e basta. Iniziamo. La prima domanda è, primo fumetto mai letto? E credo che per me, come per tantissimi altri, sia stato Topolino. Poi, ovviamente sono andato a spaziare. Dopo Topolino c'è stato il mio primo manga, il mio primo fumetto americano, il mio primo fumetto italiano. Insomma, tante cose. Se proprio devo dirle tutte, ok, il primo è stato Topolino e ce l'ho anche il primo Topolino che ho avuto. Ce l'ho messo da una parte e non lo vado a prendere. Perché è molto, molto incasinato sotto altri volumi. Quello è stato il primo fumetto, insomma, che ho letto. Poi il primo manga è stato Kikaider Call 02, il numero 4 della Planet Manga, che poi ho ricomprato in serie completa della Planeta, perché l'ha completata la Planeta. E quindi quello che ho comprato tipo a 6 anni, il primo manga che abbia mai letto e mi sono ricordato da relativamente poco tempo che fosse quello. Quindi quando l'ho recuperato, appunto, primo fumetto americano in assoluto, se non conto Spider-Man, se non conto le altre cose, è stato Y, l'ultimo uomo. Ok, Y, l'ultimo uomo, che ho comprato nella versione in bianco e nero della, 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 non mi ricordo come è che si chiama, vabbè, della Vertigo, ok, della Vertigo, che è della Lion. Non vorrei sbagliarmi. Ultimo fumetto che hai letto. Ok, l'ultimo fumetto che ho letto è stato questo, è l'Amazing Spider-Man numero 44 della New, All New, All Different, Dio santo questi nomi, che non ho ancora finto di leggere, perché qua c'è Spectacular Spider-Man, non riuscirò mai a pronunciarlo, numero 1, Ben Rally Scarlet Spider-Man e Spider-Man 2099. Di questo ho letto soltanto Spider-Man 2099, perché mi mancava per finire appunto la saga di Spider-Man 2099, il 42, 43, 44, ho lasciato delle storie in sospeso ancora da leggere, però in sostanza questo è proprio l'ultimo che ho letto, insomma. Personaggio preferito dei fumetti? Allora, se contiamo tutti quanti i tipi di fumetto, quindi appunto anche i manga e tutte le altre cose, il mio personaggio preferito in assoluto è Alibaba Salugia di Maghi. E non lo nascondo, l'ho detto ragazzi, Maghi è tipo il mio manga preferito e non mi interessa, lo dirò sempre, anche se ci sono manga molto più belli o comunque che danno di più di Maghi, sta nel kokoro ragazzi, non ce la posso fare, il mio manga preferito è quello che mi ha dato forse più emozioni di tanti altri, mano a mano che lo leggevo. Quindi, dico Alibaba Salugia, ti maghi. Fiera del fumetto preferita? Qua ce n'è una soltanto, c'è il Joe Comics, ci vado due volte l'anno, insomma la fanno due volte l'anno, a maggio e a novembre mi pare, mi piace come fiera, io posso dire che la mia preferita è quella perché è l'unica in cui vado costantemente, insomma, perché a Lucca sono nato una volta soltanto nel 2015, bello sì, ma non me la sono vissuta appieno perché gli orari erano stessi, stretti, il volo e tutto quanto, casini vari, non ce l'ho fatta a vivere Lucca a pieno. Poi il Cartumix è una fiera sì carina ma te la giri in un'ora o due, quindi non mi vale neanche il viaggio aereo perché io ho preso un aereo per andare a Milano al Cartumix, non è che ne sia valsa troppo la pena. Insomma, anche perché non ho avuto la possibilità di fare alcune sketch e dediche che volevo fare, incontrare alcuni autori perché le file erano interminabili, avevo l'acqua alla gola così per il tempo, insomma, no, l'unica fiera per me possibile è il Joe Comics, non credo ne farò altre o mi sposterò da altre parti. Marvel o DC Comics? Eh, qua è anche inutile dirlo Marvel per forza perché io della DC non ho letto assolutamente niente, non ho niente di Batman, non ho niente di nessun altro supereroe della DC e quindi per forza di cose dico Marvel, anche perché nella Marvel ci sta il tipo il mio personaggio preferito di sempre dei supereroe di Marvel appunto che è Spider-Man, quindi insomma, poco da fare, Marvel per forza. Cine Comics preferito? E qua io dico qualcosa che a molti è fatto schifo, molti non riescono a vedere sta cosa, lo ripudiano da morire, ma io non ce la faccio, ok? E non sto parlando di qualche film del Marvel Cinematic Universe o DC Cinematic Universe che fanno anche abbastanza schifo, insomma, parlo di film un po' più vecchi e iniziò anni 2000, insomma, il mio cinecomics preferito è il primo film di Spider-Man, di Sam Raimi. Quindi, qualsiasi cosa mi diciate non me ne sbatte un cazzo proprio, niente, non mi interessa, i primi due, anche il tre per certe cose, poi vabbè c'è la scena d'arcona, d'arcona, della scena d'arc di Peter, Tobey Maguire, insomma, che fa cose che non è che sia proprio il massimo, però, che quello non era male come film, li ho rivisti tra l'altro tutti e tre da pochissimo. Il mio film preferito, il mio cinecomics preferito è proprio il primo film di Spider-Man di Sam Raimi, c'è Spider-Man, per me è lui, per me è Tobey Maguire, c'è poco da fare, non è quell'altro, come cacchio si chiama, The Amazing Spider-Man, che erano carini sì come film, ma insomma, eh, non mi sono piaciuti e non riesco a rivedermi Peter Parker, rivedere Peter Parker in Tom Holland, benché per molti sia il miglior Spider-Man di sempre, per me ci sono cresciuto, ragazzi, non ci posso fare niente, rimane Tobey Maguire, lo Spider-Man più significativo, come anche la Mary Jane più significativa è stata l'attrice, adesso non mi viene in mente il nome in realtà, che c'era appunto nei film di Raimi, insomma, quei personaggi sono iconici, per quanto mi riguarda sono rimasti in testa, Sam Raimi ha fatto un danno qua dentro e quindi non è possibile levarmi il ritorno, quindi Spider-Man di Sam Raimi. Avengers, X-Men o Justice League? Molto semplice, la Justice League la mettiamo via perché non l'ho mai letto un fumetto sulla Justice League, l'unica cosa che ho visto è stato il film del DC Cinematic Universe, Dio Santo, sto cercando ancora di levarmelo dalla testa perché era una merda immonda, una roba incredibilmente brutta e quindi Avengers non è che mi piacciono più di tanto, sono carini come gruppo ma non sono mai stati il mio gruppo preferito, il mio gruppo preferito sono gli X-Men, un po' perché ci sta Wolverine che è un altro dei miei personaggi preferiti della Marvel, insomma, e dovrei comprare qualcos'altro di suo, soltanto vecchio Logan che è uscito in edicola da poco, da poco, relativamente poco l'anno scorso mi pare, e quindi gli X-Men, un po' perché ci sta Logan, un po' perché anche gli altri X-Men hanno tutti una loro particolarità, una loro mutazione, insomma, questo potremmo metterlo anche per gli Avengers, insomma, però diciamo che caratterialmente o comunque il modo di formare il gruppo mi è piaciuto di più per quanto riguarda gli X-Men, mi piace il personaggio di Xavier, anche Magneto, che non è che faccia parte degli X-Men, però è il villain, insomma, degli X-Men, e anche in questo caso mi sono diventati iconici i personaggi cinematografici degli X-Men, soprattutto quelli vecchi, insomma, i vecchi X-Men che poi sono stati spazzati via dai nuovi cose, però, cavolo, sono stati dei film che hanno fatto parte della mia infanzia e assolutamente, assolutamente degli X-Men. L'ultima domanda, nonché la più importante, è perché leggo fumetti? Io leggo fumetti perché? Perché mi piacciono, perché mi piace farmi raccontare delle storie, è lo stesso motivo per cui la gente guarda i film, per cui legge i libri, e non capirò mai la gente che dice, ah, i fumetti sono per bambini, e poi però si guarda i film, e poi però si legge i libri, sono la stessa identica cosa, è l'industria dell'intrattenimento, ragazzi, io l'ho sempre vista così, quindi questo è il mio pensiero, ve lo sto esterrando, poi ditemi se per voi è sbagliato oppure no. Tutto quello che noi vediamo nei film, serie tv, anime, videogiochi, anche, sono tutto, tutto intrattenimento, anche nei libri, appunto, tutto intrattenimento. Un esempio che faccio di solito, mio padre, ah, sta ancora a leggere i giornaletti, o comunque sia, non solo mio padre, ma molti altri, adesso un po' meno, però prima era così, e io gli faccio, scusami, tu, segui delle serie tv, segui, non lo so, Spartacus, segui delle serie tv storiche, ti piace la storia di queste serie? Sì. Ti piace la storia di questo film? Sì. Se l'avessero fatta in fumetto, sarebbe cambiato qualcosa? No. La storia è sempre quella, cambia il modo in cui viene narrata, in questo caso, questo è il primo che ho tra le mani, in questo caso viene narrata attraverso delle immagini, attraverso dei balloon, nelle serie tv viene narrato in altro modo, viene narrato in modo cinematografico, o comunque da attori veri, ma sa di fatto che la storia è quella. Cambia il modo in cui viene fatta, in cui viene realizzata, ma se ti piace la storia da una parte, la storia, se viene riportata pari pari, papale papale, nel fumetto, certo con qualche accorgimento, ti deve piacere per forza, o no? È un'idea che ho io. Non ha senso spalare merda sui fumetti e dire che sono per bambini quando la gente si guarda i film, si guarda le serie tv, ogni cosa è intrattenimento, dipende come ognuno vuole intrattenersi, cambiano, semplicemente, e basta. E poi, perché leggo fumetti? Perché, oltre ad intrattenermi, fanno emozionare, come fanno emozionare i film, come fanno emozionare i libri, come fanno emozionare i videogiochi, tutte e tre cose che ho vissuto, insomma, anche per i libri, perché non è che non leggo libri, leggo anche quelli, poco, però leggo anche quelli, mi fanno emozionare. Una serie, fra tutte, che sta per finire, questo è il penultimo volume, il 36, di Maghi, The Labyrinth of Magic, o The Labyrinth of Magic, insomma, mi ha fatto emozionare tantissimo questo manga. Ogni cosa, quando noi la finiamo, o comunque sta per finire, ci viene il mangone, quando ci ha dato tanto, Maghi mi ha dato tanto, e io adesso sono così, sono così con il dolore nel cuore, perché sta finendo, e ok, quindi, insomma, questo è quello che ti fa provare un film, un libro, un videogioco, un manga, quando una storia finisce, finisce, benché non sia una storia reale, sia una storia inventata, e ti lascia qualcosa, un po' ti fa male. Ok, quindi, li leggo perché mi danno tante emozioni, non solo Maghi, tanti altri, insomma, mi hanno dato molte emozioni, e quindi io continuo a leggere i fumetti per questo motivo, ed è per questo che, secondo me, anche chi è scettico per i fumetti dovrebbe leggerli, dovrebbe farsi un'idea, perché non è solo il modo in cui viene trattata una storia, il mezzo, che in questo caso è carta stampata, insomma, no? È anche la storia all'interno, ok? È quella che fa l'emozione, che fa appunto emozionare le persone che quando vanno al cinema, quando leggono un libro. È quello. Quindi, questo è il mio pensiero, spero che lo condividiate, oppure, non lo so, sparatemi in merda nei commenti, vedete un po' voi. Questa appunto era l'ultima domanda, e taggare la gente, taggare la gente per il prossimo video, io davvero non so chi taggare, perché non lo so, ho sempre fatto così, io taggo tutti quanti, vedete voi, se volete rispondere, farci un video, magari sotto questo video ditemi, ehi, l'ho fatto pure io, vieni a vederlo, ok? Senza però farmi lo spam, ok? Se becco gente così, a caso, ah, spam, vieni nel mio canale, ci rimaniamo attivi, no, no. Semplicemente ditemi, ah, ok, per il tuo tag l'ho fatto anch'io, vediamo, vediamo un po', insomma. Quindi taggo tutti quanti, sentitevi liberi di fare questo comic book tag, io finisco così, e chiudo questo video in modo molto semplice, come è molto semplice questo video, con pochi tagli, poche cose, non taglio neanche la parte finale, io spengo così, con il dito nello stop. Ciao a tutti!